Amici di calciomercato.com ben ritrovati con l'indiscrizione quest'oggi per parlare di Matteo Gabbia, quella di ieri una serata che non dimentichera tanto facilmente il difensore classe 1999 del Milan perché è coinciso con i suoi soldi in Serie A, prestazioni super a coronamento di un grande lavoro fatto in questi mesi e pensare che Gabbia poteva lasciare il Milan a gennaio, c'era stata un'offerta importante di un prestito oneroso da parte del Parma e il giocatore si era quasi convinto ad accettare la possibilità di trovare maggiore continuità nel club ducale ma alla fine il Milan ha detto di no perché punta fortemente su Matteo Gabbia un giocatore che piace tanto a Pioli, piace tanto alla società, tanto che nei prossimi mesi verrà intavolata la trattativa anche per il rinnovo del contratto allungando l'attuale scadenza dal 2023 al 2024. Gabbia si è preso in Milan e già con la Filentina potrebbe essere confermato al centro della difesa.